Cartacce e bottiglie di vetro. Così si presentava questa mattina alle telecamere di TV City l'area delle giustrine a Portoscala. Un copione già visto, fatto di degrado in civiltà, proprio nella zona dove le mamme sono solite portare i bambini a giocare e trascorrere qualche ora in allegria. Carte gettate sulle aree verdi, bottiglie abbandonate dietro gli scivoli. Manca la pulizia e il buonsenso dei cittadini, specie dei giovani che nel fine settimana si ritrovano in zona nelle ore serali, lasciando a terra bottiglie di vetro e non solo. Una situazione che sicuramente mette a rischio la sicurezza dei frequentatori dell'area, soprattutto dei più piccoli. Problematiche più volte denunciate, in particolare dei residenti, anche di recente per la paura di assembramenti, con la richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.